Mini in recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Zanetti che mi chiede di parlare del film del 1989 scritto, prodotto e diretto da John Hughes, io e zio Buck con protagonista unico in realtà un grandissimo John Candy che interpreta appunto la parte di questo zio che è un classico casinista insomma, classico personaggio da John Candy che praticamente viene chiamato a dover fare da babysitter a tre suoi nipoti è una ragazzina di 16 anni, un bambino di 10 e una bambina di 6 in pratica e lui ha un rapporto subito buono con i bambini più piccoli nonostante sia praticamente una bestia lui in realtà è uno che fa un casino incredibile questo rapporto non riesce ad averlo con la tia, la sua nipote maggiore e di lì poi tutta la storia appunto di lui che dovrà cercare di conquistare il cuore dei suoi nipoti dovrà cercare di trovare il coraggio di esplosarsi e dovrà dimostrare anche al fratello insomma di poter essere una persona sensibile in questo senso da poter tenere dei figli allora bisogna dire subito che il film arrivò da noi in realtà in ritardo proprio perché c'era Macaulay Culkin che fa uno dei bambini appunto del bambino di metà sui 10 anni con i quali nascono forse le gag più divertenti in un certo senso e va detto che John Candy è un grandissimo il suo personaggio lo porta a mantella grande ed è lui che illumina una commedia tutto sommato tra le peggiori di John Hughes nel senso che si inventa poco e quello che si vuole inventare in realtà non arriva fino in fondo parecchio moralista un po' così classico film per famiglia che in un certo senso uno ci si può anche divertire non è l'orrore del mondo proprio perché come ho detto John Candy è anche filato nei film peggiori riesce comunque a tirare fuori una verve che lo trasporta insomma a fare delle 3-4 sequenze nel film che sono veramente divertenti proprio per il suo modo di fare poi John Hughes è uno che i tempi li sa utilizzare non è questo problema proprio la base è la sceneggiatura che ha di poco conto e che lascia appunto libero John Candy a distroneggiare ma poi il resto però crolla nonostante la simpatia appunto di un buon Macaulay Culkin da bambino che era un anno prima di quando ha girato Mambo Persolerio sempre appunto di produzione Hughes e siamo di fronte qui al classico film di John Hughes anni 80 solo che non gli è venuto bene come altri perché sono un regista che fa anche un certo senso del buonismo e del tutto il resto non si critica mai niente si cerca di essere sempre un po' all'acqua di rose ma forse davvero troppo per una commedia ripeto familiare una commedia da vedere così con i bimbi che probabilmente non è così brutto detto lo guardai quando uscì perché tutti si guardava il film con John Candy la ripetizione e ripeto nonostante i momenti in cui li fai ridere il film è fiacco proprio perché non si muove a livello di personaggi che sono stereotipati tagliati con l'accetta ciò che succederà è telefonato e però ebbe un successo incredibile che generò una teletire divisiva per due anni sulla CBS e poi addirittura la ABC nel 2016 ha realizzato una nuova serie basata di nuovo su questo film che come ho detto è diventato un calto assoluto in America è diventato un film che ha incredibilmente poi dopo il successo per Solerio prese ancora più piede grande successo di cassetta per ripeto un'opera però su uno sottoscritto abbastanza modesta ripeto né bruttissima né che si accende mai se non ho detto in quelle 3-4 momenti in cui Candy la fa da padrone e quindi il film si smuove per il resto insomma solita roba che si è vista mille volte con il personaggio goffo beso ma simpatico e pasticcione di un John Candy che stavolta tira fuori tutta la sua vero ma non riesce comunque a salvare completamente un film perché va detto è veramente poca roba a livello di scrittura lo ripeto nonostante abbia dei guizzi poi insomma a voi l'ultima parola link per il Yozio Bach qui sotto su Patreon mi piace il campanellina super grazie andate su Facebook Instagram insomma seguitemi dove cazzo vi pare e se avete voglia di una serata siete in famiglia con i bambini per vedere qualcosa comunque di divertente che di sicuro non li scioccherà ma che magari li potrà divertire questo Yozio Bach forse fa al caso vostro